Cambiamo argomento per dire che un gruppo di imprese della ZIAC di San Giorgio hanno aderito ad un progetto pilota di autoformazione perché la sicurezza non deve essere un peso burocratico. Ce ne parla Anna Marcolin. Il lavoro che ferisce, mutila, fa ammalare o uccide. La sicurezza non è mai un optional, tant'è che la formazione diventa essenziale fattore di prevenzione per un gruppo di aziende della ZIAC che hanno promosso un progetto pilota di autoformazione unico in Italia. Un progetto da esportazione coinvolto loiale FWG e una decina di aziende della zona industriale di San Giorgio di Nogaro. I loro addetti alla sicurezza e ambiente hanno contemporaneamente ricoperto un duplice ruolo, docenti e studenti. Un percorso imbastito nell'ottica di un'economia di scala, della condivisione di conoscenze e buone pratiche sulla cultura della sicurezza, sicurezza che va potenziata. Gli aspetti più critici sono sempre correlati alla gestione delle dita in appalto, alla movimentazione meccanica delle merci, a un'organizzazione, un coordinamento tra le varie funzioni in azienda. Quindi bisogna puntare soprattutto sulla formazione e puntare sulla pianificazione e le procedure. Gli appalti possono diventare spesso un rischio? Se non gestiti, sì. La sicurezza non deve essere un peso burocratico. Di qui la formazione mirata di addetti, l'accreditamento di docenti, aggiornamenti, visite tecniche e percorsi di formazione interaziendali e una piattaforma di condivisione. È un esempio, in questo caso, di simbiosi industriali, dove all'interno di un'area industriale, oltre a mettere a disposizione, condividere flussi di materia, energetici, servizi, si condividono anche le esperienze, le competenze. E per questo anche le zone industriali possono diventare più forti.